un limone del prezzemolo del formaggio grana grattugiato del burro sale grosso per l'acqua della pasta spaghetti sale pepe buongiorno e bentornati nella mia cucina oggi prepareremo una ricettina sfiziosissima degli spaghetti al limone iniziamo iniziamo mettiamo una bella manciatina di sale ancora un pochettino noi prepareremo due porzioni adesso caliamo la pasta diamo la rimestatina agli spaghetti che si sono ammosciati e passiamo al secondo passaggio iniziamo adesso a preparare il condimento della pasta cominceremo con lo sciogliere il burro e poi ci aggiungeremo la buccia di questo limone profumatissimo tutta la buccia venite con me che vi faccio vedere come facciamo allora abbiamo acceso la padella ci caliamo il burro questi sono 40 grammi per due persone adesso prendo il mio limone ci grattugiamo tutta la buccia tutta tutta mi raccomando non è sprecata nemmeno un pochino perché sarà proprio quella a dare quel sapore squisitissimo a questa pasta il burro non deve riscaldarsi molto mi raccomando si deve solo sciogliere adesso finiamo la cottura della pasta in questo condimento in questo modo molto lenta ci mettiamo anche un po dell'acqua di cottura mi aiuto con questa faccio prima in questo modo aggiungo anche un pochino di acqua di cottura e faccio andare ancora per qualche minuto questo procedimento di cottura servirà per far rilasciare tutto l'amido alla pasta così si formerà quella cremina squisita senza l'aggiunta di panna adesso premo il succo di questo mezzo limone che poi aggiungerò alla pasta adesso abbiamo aggiunto il limone e aspettiamo qualche minuto ci aggiungiamo due cucchiai di grana il fuoco spento mi raccomando altrimenti il formaggio si straccia adesso ci aggiungiamo un po di prezzemolo sufficiente giusto giusto un goccino di acqua ma proprio qualche lacrimuccia da una rimestatina e se guardate che bella cremina guardate vi assicuro che è squisita guardate che bella cremina mettiamo un po di sale pepe ancora la rimestatina e siamo pronti per impiattare mamma che profumo non vi do l'ora di assaggiare che buona guardate come vi ho detto sono due porzioni una che me la pappo io e l'altra con mio dispiacere la lascio agli operatori giustamente non potrei papparmela tutta ma io non ce la farei perché sono abituata a mangiare poco si vede ecco qua se vogliamo metterci qualche decorazione possiamo usare qualche fettina di limone sembrerà il piatto più chic allora facciamo in questo modo una fettina la mettiamo qua una fettina qua e un'altra piccina piccina la mettiamo su prendiamo anche un po di prezzemolo lo mettiamo nel piatto e voilà guardate che chiccheria e adesso che tutto è pronto mi sacrificherò per assaggiarlo non me ne vogliate ci siamo allora 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 assaggiamo che profumo amici non riesco a parlare ne vorrei ancora ma devo aspettare lina aspetta che finiamo insomma è buonissima fate questa ricetta vi aspetto alla prossima puntata un bacio a tutti alla prossima ciao 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 ciao